Lo scorso novembre le chiuse del Serio Morto a Pizzighettone si era formata una vera e propria discarica a cielo aperto con rifiuti e carcasse di animali. Ora il raccapricciante spettacolo si ripete con una moria di pesce ed un forte odore di liquame. Rimangono da chiarire le cause ma l'ipotesi più accreditata rimane quella di uno sversamento di rifiuti da parte di qualche azienda agricola o dell'accumulo di liquami delle varie aziende che hanno di conseguenza limitato l'ossigeno per i pesci. L'acqua in questione viene utilizzata poi per irrigare i campi. Il tratto resta quindi fermo e senza ricambio di acqua e la sorte dei pesci è stata segnata. Nel frattempo il senatore Simone Bossi ha presentato un'interrogazione invitando il ministro della transizione ecologica ad intervenire per contrastare il fenomeno aumentando le pene nei confronti dei titolari di aziende che mettono in pratica sversamenti illegali. Ecco le parole di chi ha segnalato per primo la problematica. Passando per via Piave dove abbiamo tutti gli anatroccoli così abbiamo visto che i pesci boccheggiavano quindi mancava l'ossigeno nell'acqua. Poi dopo abbiamo visto subito nel nostro laghetto delle Nifee che anche i nostri pesci cominciavano a venire a galla. Allora abbiamo aperto l'acqua potabile e hanno boccheggiato tutta la mattinata diciamo respirando dall'acqua potabile. La prima volta che vediamo tutti questi pesci morire ecco sono morti tutti. Io abito di fronte al serio. Diciamo che abbiamo avvertito parecchio odore sgradevole. Il colore non parliamone perché era un colore veramente osceno impossibile da respirare. Macchie d'olio e altre cose. Noi lungo il serio abbiamo anche dei animaletti diciamo le annatre che le cuidiamo bene eppure anche loro qualcuna di loro se n'è andata perché è morta dovuto non lo so magari hanno mangiato dei pesci magari non lo so pesci morti che si sono trovati galleggiando. Molto dispiaciuti perché viviamo qua e essendo una zona verde vogliamo che la natura ci dia ossigeno e aria pulita. C'è odore sì sentiva l'odore. Il problema si è ripresentato anche in centro paese al laghetto delle Nifee accanto alla torre mozza che è stato poi accuratamente pulito ed utilizzato per rimettere in sesto i pesci possibili.